Un'operazione concertata tra le squadre mobili delle questure di Salerno e Avellino e dei carabinieri di Nocera Inferiore ha dato scacco matto a due boss della Camorra, operante in provincia di Salerno, a Pagani e nell'agro Nocerino Sarnese. Sotto il coordinamento, la procura salernitana, agenti e militari hanno fatto scattare le manette ai polsi di Andrea De Vivo e Francesco Fezza, considerati appunto i boss al vertice dell'organizzazione criminale, che erano riusciti a stottrarsi all'ordinanza di custodia cautelare messa nei loro confronti il 2 dicembre scorso. Le indagini di procura e direzione distrettuale antimafia contestano ai due latitanti la direzione dell'Associazione a Delinquere di Stampo Camorrisico, nonché una lunga serie di reati aggravati dal metodo mafioso. Il cerchio si è stretto anche attorno ad un altro indagato, Emanuele Amarante, resosi anche gli irreperibili il 2 dicembre scorso, che stamattina si è costituito presso la casa circondariale di Forni.